In un certo senso porterà avanti i lavori per quanto riguarda i pirocini formativi e tutte le altre misure che riguardano i giovani e lui come discorso ci darà una mano anche per tutti i discorsi di inserimento e di tutta la situazione. Passo subito la parola al sindaco per un breve saluto e poi entriamo nel merito. Buonasera a tutti, innanzitutto io vi devo ringraziare per la vostra presenza ma soprattutto per la presenza delle attività produttive, delle imprese